Anche quest'anno torno all'appuntamento con l'assedio di Canelli e siamo alla 25esima edizione. Ecco, questa manifestazione rappresenta anche un'occasione per stringere rapporti tra Piemonte e Liguria, in particolare con la provincia di Savona. Questa è una scusa per stringere rapporti. La nostra manifestazione, ormai alla 25esima edizione, è una manifestazione importante, una revocazione tra le più importanti in Piemonte, in cui per due giorni la città si traveste e ritorna al 1613 con battaglie, cibi, osterie, momenti storici, momenti di divertimento. E quindi è un'occasione importante, ma oggi è un'occasione importante anche per stringere rapporti, allacciare legami con il sistema camerale di Savona, con la Confcommercio di Savona, col territorio di Savona, il nostro sbocco naturale al mare e la possibilità per noi, per la provincia di Asti, per questi territori, di creare un'offerta turistica ancora maggiore, di qualità, che possa permettere ai nostri turisti, ai turisti che vengano a trovarci, di non stanziare, non stare un giorno o due, ma magari di passare una settimana sul nostro territorio e quindi naturalmente di portare valore aggiunto ed economia.